Buongiorno a tutti, buongiorno Ottoliner, buongiorno Giuliano, buongiorno Alberto Fazzolo. Torna con noi per i sabati di Ottolina sulla geopolitica e la politica internazionale. Oggi con lui vogliamo parlare di conflitto in Ucraina. Alberto si è occupato in prima persona, è stato lì personalmente, quindi è uno che ne sa. Inizierei subito con una domanda di strettissima attualità, perché negli ultimi giorni i russi hanno ripreso questa lenta avanzata, prendendo anche delle roccaforti importanti per le truppe ucraine. Ecco, quello che voglio chiederti Alberto è innanzitutto il significato simbolico e militare di questi passaggi, di queste conquiste. E poi voglio chiederti che cosa ci aspettiamo per il futuro. Andrà avanti così e quindi piccole conquiste alla volta, oppure aumentano sempre di più le possibilità di un cedimento massiccio del fronte ucraino? Buongiorno, grazie mille dell'ospitalità ancora una volta. Ovviamente stiamo facendo riferimento alla battaglia di Advietka, che ha un fortissimo valore politico e anche un valore militare. La città di Advietka è stata occupata dagli ucraini nella primissima fase del 2014, si era sollevata, si era autoliberata, ma poi è stata riconquistata dagli ucraini che vi hanno installato la più forte e radicata cinta di difesa che si è stata fatta in tutto il paese. Questo perché? Perché quella città gli serviva come postazione di lancio per l'artiglieria per bombardare la città di Donetsk in questi dieci lunghissimi anni. Perché appunto fino all'altro ieri le bombe lanciate da Advietka arrivavano nel centro di Donetsk, mietendo vittime. E non solo, perché in quella città c'è anche un importante snodo idrico che è quello che riusciva a tenere strangolata la Repubblica di Donetsk per quel che riguarda l'approvvigionamento di acqua. Un qualcosa che è particolarmente importante e che magari nella società moderna non riusciamo a quantificare nella sua centralità. Quindi con la liberazione di Advietka si superano queste due fasi e si superano in un momento non banale perché succede alla vigilia dell'anniversario dell'inizio dell'operazione militare speciale russa. Quindi un momento in cui è naturale, fisiologico fare dei bilanci e fare un bilancio con una vittoria del genere messa in tasca è un qualcosa di sicuramente diverso. Ma come si è arrivati a questa conquista? Innanzitutto diciamo che le fortificazioni che c'erano lì erano davvero un qualcosa di inespugnabile. Muri di cemento armato profondissimi che non riuscivano ad essere bucati dai missili. Scusate. E questi si trovavano installati all'interno delle abitazioni civili. In città in realtà alla fine vivevano ormai non più di 900 persone perché con i duri combattimenti che ci sono stati avevano sfollato quasi tutti. Ma queste 900 persone si trovavano in mezzo alle fortificazioni quindi la possibilità da parte dei russi di bombardarli senza colpire civili era praticamente impossibile. E quindi si è deciso di scongiurare un'operazione tradizionale quindi con artiglieria o bombardamento aereo che sia e di puntare ad un accerchiamento. Operazione molto più dolorosa e costosa per i russi che hanno avuto comunque delle significative perdite in termini di uomini e di materiali ma alla fine sono riusciti ad accerchiare la città e a prenderla. E qui arriva l'elemento politico interessante per la parte avversa perché si ricollega alle vicende che tutti sappiamo del cambio al vertice delle forze armate ucraine tra Zalusny e Sirki. Perché Sirki è l'uomo che più di tutti all'interno delle forze armate ucraine ha spinto fino adesso per cercare di utilizzare un numero smisurato e ampissimo di persone e di mezzi sul campo di battaglia mandandoli in quello che i russi chiamavano il tritacarne quindi avendo un disprezzo totale delle proprie truppe un po' come se vogliamo paragonarlo a qualcuno di casa nostra come era a Cadorna durante la prima guerra mondiale ma questo perché? Perché nel consumo di uomini e mezzi si dà la legittimazione all'Ucraina per avere nuovi aiuti nuovi aiuti che si traducono sia in approvigionamenti militari ma anche in soldoni in denari che poi in grossa parte spariscono quindi questa fame di aiuti poi vedremo anche che arrivano sempre di meno è spesso giustificata dall'arricchimento personale di una casta che si è creata in Ucraina ecco a tutto questo si opponeva Zaluzni e per questo è stato rimosso perché diceva non mandiamo al massacro i soldati soltanto per arricchimento di qualcuno cerchiamo di salvaguardare le loro vite questa fazione è stata rimossa e si è appuntato ai macellagli come Sirski che detto internospa tra parentesi viene da una famiglia per bene perché sia il fratello che la mamma stanno in Russia e sono molto tifosi del governo che c'è adesso in Russia ma perché parlo dell'incontro tra le tattiche di Zaluzni e di Sirski perché questo ovviamente ha anche dei risvolti politici alcuni giorni prima della battaglia di Advetka quindi quando la propaganda ucraina faceva credere che tutto andasse per il meglio che non ci fosse nessun problema e tutti e tutti e buona parte della popolazione ucraina ci credeva comunque c'erano delle crepe nel consenso di Zelensky e quindi un sondaggio fatto in questo momento appunto quindi quando tutti pensavano che andasse tutto bene diceva che la popolarità di Zaluzni era al 38% mentre quella di Zelensky soltanto al 16% poi c'erano a seguire Timoshenko al 10% e Poroshenko all'8% quindi capite che è una situazione abbastanza instabile già prima della disfatta di Advetka adesso è sicuramente tutto diverso se si dovesse rifare adesso un sondaggio sulla popolarità di Zelensky rispetto a quella di Zaluzni io penso che ci sarebbero dei risultati eclatanti e questo non fa stare tranquillo Zelensky perché più che l'azione di palazzo a questo punto potrebbe anche iniziare a temere la piazza ma mi domandavi anche come questa vittoria cambierà la situazione sul campo perché indubbiamente la cambierà a prescindere dalle scadenze e dagli aspetti politici rimanendo puramente sul piano militare noi possiamo constatare che c'è un riposizionamento netto di tutte le forze ucraine e ovviamente la Russia non intende lasciare vuoti quindi ad ogni arretramento ucraino corrisponde un'avanzata russa ma non perché la Russia stia cercando di sfondare non è ancora questa la fase e forse lo confido che non ci sarà mai perché si punta a una capitolazione dell'esercito ucraino comunque le avanzate e gli aumenti di pressione ci sono su cinque direttive quella di Vietka l'abbiamo già detta poi ce n'è una interessante da Marinka sono già entrati i russi nel paesino di Pabieda che vuol dire vittoria quindi anche una simbologia sua come nome ma più interessante di tutti dal punto di vista militare è quello di Rabotino da cui si muovono le truppe russe in direzione di Zaporizia perché noi abbiamo sentito molto parlare di Zaporizia ma per la centrale nucleare che in realtà non sta in città è un po' più a sud ovest la città invece è un centro molto importante molto significativo e che per gli ucraini sarà difficile da difendere perché si trova sulla riva di un fiume ma sulla riva orientale quindi gli ucraini che si dovranno attestare in città sanno benissimo che se i russi dovessero per esempio, dico io far saltare i ponti in città loro si troverebbero completamente isolati dal resto del proprio sistema di difesa e quindi del sistema logistico e del sistema di approvvigionamento e io sinceramente se fossi un soldato ucraino in una situazione del genere non mi ci ficcherei tanto volentieri scusami Alberto tu parlavi di una capitolazione dell'esercito ucraino ma la Nato, l'Occidente è disposto a permettere questo perché diciamo che ad oggi l'impressione è anche alla luce di retroscena che sono un po' emersi su quella famosa mediazione iniziale della Turchia cioè lì era emerso a un certo punto tra i litigi interni nella leadership ucraina tra militari e politici è emerso il fatto che in realtà in Ucraina un po' un fronte di dialogo si era aperto cioè della serie vabbè chiudiamola e invece lì poi si era parlato di un forte coinvolgimento del Regno Unito cioè di pressioni inglesi per proseguire fino all'ultimo uomo la guerra cioè tu parli di una capitolazione quindi la Russia punta a una capitolazione ma l'Occidente secondo te sta cambiando lentamente anche alla luce di questo appunto lenta avanzata russa sta cambiando prospettiva o con l'Occidente e la Nato rimangono fermi sull'idea fino all'ultimo Ucraino si combatte? Secondo me l'Occidente collettivo per scongiurare la capitolazione ha tre opzioni o favorire un cambio significativo di strategia cosa che non mi pare che stia avvenendo o puntare a un coinvolgimento diretto e non mi pare che la Nato si voglia andare a impelagare soprattutto in questa fase che oramai è abbastanza segnata e il terzo modo è insistere con gli aiuti però nel momento in cui siamo a febbraio inoltrato e gli Stati Uniti dal 31 dicembre non hanno più mandato un dollaro di aiuti e tutto sta sulle spalle della già approvata Unione Europea che non ha grande voglia di farsi trascinare ulteriormente nel conflitto io penso no che non ci sia grande interesse da parte degli Stati Uniti per scongiurare la capitolazione perché comunque agli Stati Uniti quello che interessa è la destabilizzazione e non la vittoria dell'Ucraina quella è solo propaganda che vogliono propinare alle masse popolari ma per la destabilizzazione non è necessario che si continui a combattere in Ucraina perché appunto abbiamo già almeno un altro popolaio importante in questo quadrante che è quello un po' più a sud medio orientale e che comunque coinvolge direttamente l'Europa ma come se non bastasse ricordiamoci che ci sta in corso un'esercitazione militare con 90.000 uomini della Nato nelle Repubbliche Baltiche Repubbliche Baltiche che continuano con le provocazioni costanti e che cercano ulteriormente di trascinare la Russia in un conflitto Senti ma però perché l'impressione diciamo che si legava è che lentamente come una sorta di rullo compressore molto lento ma che piano piano avanza l'esercito russo stia avanzando appunto cioè l'idea di fondo è che paesino dopo paesino cittadina dopo cittadina ci vogliono settimane ci vogliono mesi ma alla fine i russi avanzano e sembra chiaro ormai che la controoffensiva Ucraina è giocata non sembra neanche che abbiano il potenziale ora per avviarne un'altra ma proprio a livello di uomini insomma quindi la domanda che ti faccio è ma il conflitto è destinato a durare anni e anni e la Russia ha il potenziale per proseguire questa pressione lenta ma continua su quel fronte cioè idealmente se il conflitto dovesse durare dieci anni la Russia ha il potenziale per proseguire dieci anni con questa lenta pressione allora secondo me il conflitto non durerà dieci anni siamo non dico agli sgoccioli però stiamo definendo quello che è l'assetto futuro e ovviamente se uno vede le avanzate adesso sono state di 15 chilometri quelle di cui ho parlato prima grossomodo e si fa il conto di quanto manca per arrivare a Odessa è ovvio sì che dice qui ci vuole qualche anno per arrivarci ma non funziona così se ci deve essere appunto se si prevede un collasso del sistema di difesa ucraino per arrivare laggiù fino a Odessa si prende l'autostrada dopo che si è firmato un accordo di pace non è necessario fare la battaglia finale a quello non ci si arriverà anche perché questo evento di Advietka ha rinvigorito molto anche delle realtà che noi abbiamo visto molto timide fino adesso e sono le forze della resistenza quindi i partigiani antifascisti all'interno del territorio ucraino proprio dopo questa importante capitolazione il morale delle truppe ucraine in generale si è abbassato e quindi si è passati a fare delle azioni più significative anche dal punto di vista politico più che militare e mi riferisco proprio alcuni giorni fa all'uccisione da parte di partigiani antifascisti nella città di Odessa del leader locale di Pravi Sector Albert Krugnin è stato ucciso in un attacco da parte delle formazioni antifasciste e invece una cosa ancora più interessante dal punto di vista questo militare più che politico è l'attacco nella città di Leopoli quindi la roccaforte del nazionalismo ucraino da parte di partigiani contro una fabbrica di droni l'hanno assaltata uccidendo le guardie all'ingresso e l'hanno dato alle fiamme quindi è probabile che adesso si possa iniziare a ragionare più seriamente su un fronte interno per una serie di motivi innanzitutto per la galvanizzazione morale di cui vi ho già detto ma anche perché molte persone si sentono più prossime ad essere all'interno del territorio liberato quindi anche alcuni uomini che magari stavano dentro le forze armate fino a questo momento che magari hanno stanno distanza mettiamo Odessa ma hanno la famiglia in una città come può essere Zaporizia che molto probabilmente a breve passerà sotto il controllo russo prendono forza prendono carica e iniziano ad agire per costruire un domani diverso quindi questo secondo me è lo scenario dal punto di vista tattico più interessante che si prefigura nei prossimi giorni settimane e mesi ma quindi per intenderci tu escludi categoricamente la possibilità di una ripresa ucraina cioè la possibilità anche solo di una riorganizzazione di una difesa di una ripresa nel senso anche di una appunto la famosa controoffensiva che l'anno scorso ci dicevano ah entreranno dentro di centinaia di chilometri a un certo punto Zelensky aveva detto ci riprendiamo pure la Crimea al di là del fatto che quelle chiaramente sono butade pure un po' propagandistica appunto per spingere la Nato poi a dare armi soldi e via dicendo ma tolto questo cioè tu escludi categoricamente quindi che ci sia diciamo è un punto di non ritorno quello a cui siamo arrivati mi sembra di capire per l'offensiva estiva che noi individuavamo già come velleitaria sono stati messi sul piatto tutti gli uomini migliori tant'è che anche a Vietzka sono state prese le truppe d'elite sono state prese tutte le messe in piatto tutte le attrezzature migliori di cui era stata rifornita l'Ucraina negli ultimi tempi e le risorse anche di carattere economico quindi con il top di cui si disponeva prima si è riusciti ad ottenere nulla quindi adesso che non ci sono più uomini non ci sono più armi non ci sono più risorse economiche non vedo proprio come l'Ucraina possa pensare di fare un'ulteriore controoffensiva chiarissimo senti e come te lo immagini quindi lo scenario futuro diciamo la tua idea di fondo mi sembra di capire ricalca un po' perché Putin in una recente intervista a Carlson diceva guarda prenderemo la parte est chiuderemo insomma noi immagino un'Ucraina neutrale che non ha facciata sul mare cioè ci riprendiamo d'est e via dicendo questo secondo te quindi è lo scenario conclusivo cioè la Russia che si riprende la parte orientale e lo sbocco sul mar nero e eventualmente Polonia Ungheria Romania che si riprendono dei pezzettini occidentali e quindi rimane un'Ucraina più piccola neutrale fuori dalla NATO e via dicendo oppure c'è ancora c'è ancora un tavolo aperto questo questo secondo me non è lo scenario conclusivo è lo scenario iniziale in questi giorni ricorrono i dieci anni dall'inizio della sollevazione antifascista in Ucraina in cui tutta la Novorossia quindi da Odessa al Donbass si era sollevata contro il regime di Kiev la differenza è che a Odessa anche tramite una strage perpetrata dai nazisti si è riusciti a fiaccare la resistenza e l'Ucraina ha controllato quei territori che non volevano stare sotto il suo controllo per tutto questo tempo ora quell'incubo sta finendo quindi semplicemente si riuscirà a realizzare e costruire quel progetto politico che il popolo ucraino aveva preteso dieci anni fa e le nazioni occidentali secondo te si estenderanno cioè poi perché anche questo a me sembra un po' fantapolitica quando la Polonia si riprende Leopoli all'Ungheria si prende a me sembra un po' fantapolitico che dei paesi della Nato vadano a prendersi pezzettini di un paese in guerra la ritieni uno scenario verosimile invece sono io che pecco di realismo oppure è verosimile che a un certo punto la Polonia l'Ungheria la Romania vadano a prendersi appunto dei pezzettini confinanti anche perché poi nel caso della Romania è un pezzettino veramente minimo dove finisce la Moldavia forse c'è un pezzettino vicino l'Ungheria ma sarebbe forse anche sovrapposto a quello che si prendono gli ungheresi lo ritieni uno scenario plausibile questo che dei paesi della Nato vadano a prendere le parti più occidentali oppure è da escludersi allora se lo vai a chiedere ai polacchi e agli ungheresi penso che la stragrande maggioranza se non la quasi totalità ti dicono che loro pretendono di riprendersi quei territori detto ciò sono due paesi della Nato idem la Romania quindi in realtà sono subalterni alle decisioni di Washington io penso che Washington non glielo permetterà mai di fare un qualcosa del genere quindi di annettersi dei territori perché questo non farebbe altro che legittimare l'operazione russa in fondo quindi uno scenario così netto e categorico non penso che si potrà raggiungere tuttavia se i Balcani ci insegnano qualcosa è che si possono fare degli stati su base anche magari etnica che rappresentino sostanzialmente delle aree di influenza delle sorte di protettorati di altri paesi quindi lo scenario più plausibile che vedo io è dare attuazione allo statuto ucraino che ricordiamo era uno stato federale e quindi fare delle federazioni ulteriori alternative quindi magari una federazione con la Polonia che riguardi la città di Leopoli una federazione con la Transcarpazia più vicina all'Ungheria poi magari quella della Romania è geograficamente come ricordavi tu un po' troppo piccola per metterci addirittura uno stato cuscinetto quindi magari lì si può trovare una soluzione alternativa però secondo me lo scenario più plausibile è quello e che sarà determinato anche dagli sviluppi prossimi e futuri perché se ci dovesse essere quella a cui abbiamo fatto riferimento prima cioè la destabilizzazione sul Baltico la Polonia sarà il nuovo terreno di scontro insieme alle repubbliche baltiche quindi non è da escludere che per un servigio del genere possano chiedere un qualcosa in cambio a Washington quindi un lascia passare per fare un qualcosa di più sui territori ucraini perché ricordiamo appunto che il tentativo di destabilizzazione riguarda prevalentemente la piccola enclave di Kaliningrad che sta attaccata alla Polonia è un enclave russa e che è strategica fondamentale per il sistema di difesa russo quindi scenari abbastanza complessi a cui speriamo per destabilizzazione che cosa intendi perché lì è un po' un punto di contatto diretto cioè tra paesi della Nato che in sostanza cerchiano Nato e fortemente antirussi cioè la Lituania e la Polonia che in sostanza cerchiano questa isoletta russa questo pezzettino di terra russo lì che cosa intendi per provocazione per punto di tensione perché lì insomma diventerebbe un punto di tensione diretto tra i due blocchi cioè non sarebbe appunto uno stato cuscinetto e mezzo come è il caso dell'Ucraina ma sarebbe proprio un attrito diretto tra i due blocchi che cosa intendi per scontro e innalzamento della tensione io non credo che ci sarà un attacco diretto delle forze o lituane o polacche all'enclave di Kaliningrad perché quello è territorio russo a tutti gli effetti e la dottrina nucleare russa prevede risposte estremamente risolute nel momento in cui si corre il rischio di perdere parti del proprio territorio quindi l'azione militare seppur tecnicamente possibile la immagino improbabile perché porterebbe delle conseguenze apocalittiche e tuttavia la Russia non è disposta minimamente a rinunciare a quel piccolo fazzoletto di terra sia perché ci vengono i russi perché c'è un'importante tradizione di quell'aria e tutta un'altra serie di motivi ma pure per questioni più banali terra terra perché lì ci stanno le antenne radar che tutelano la Russia dagli attacchi missilistici occidentali quindi questo è il motivo per cui la Russia non cederà mai quel fazzoletto di terra ma come possono arrivare quindi queste provocazioni allora innanzitutto con la chiusura dei canali di approvvigionamento perché c'è un passaggio via terra collegato attraverso la Bielorussia che è sostanzialmente chiuso e adesso si potrebbe addirittura arrivare al blocco navale quindi un piccolo fazzoletto di terra se venisse completamente isolato dai collegamenti con la Russia beh avrebbe dei grossissimi problemi anche di di gestione intera sarebbe un assedio a tutti gli effetti una forma di embargo in questi termini non è illegale per il diritto internazionale c'è una chiusura di questo tipo a darle a isolare via dici beh lo fanno a Gaza è una domanda un po' sciocca da 60 anni non mi sembra che poi le Nazioni Unite si riescano a far sentire con gli Stati Uniti su questa cosa sebbene oramai la musica è cambiata a livello internazionale quindi auguri a provare a fare una cosa del genere perché poi ce la giochiamo tutta però ricordiamo che proprio per fare questa cosa la Nato in questi giorni ha schierato in settimana scusate ha schierato 50 navi lì navi da guerra quindi è una partita abbastanza delicata e lo hanno fatto sicuramente nel momento in cui è inutile nascondersi dietro un dito in Ucraina dal punto di vista russo militare russo va tutto bene ad eccezione della battaglia navale perché le forze navali russe hanno subito pesanti perdite e sono dovute al fatto che lì lo scontro non è con gli ucraini per interposta persona quindi Nato lì è proprio uno scontro diretto con la Nato perché finché parli di fanteria è ovvio che c'è una copertura satellitare le armi della Nato ma poi sono soldati ucraini a combattere mentre quando ti parte un missile che colpisce una nave russa il missile parte magari dal territorio ucraino ma è gestito da personale della Nato e gli dà le coordinate un drone della Nato partito da Siconella è ovvio che lì lo scontro è con la Nato e quindi le batoste ce l'hanno presa i russi sul Mar Nero e per questo hanno spostato alcune risorse dalla flotta del Baltico al Mar Nero e quindi sono un pochino più scoperti quindi la Russia ha meno disponibilità nel Baltico la Nato ci ha mandato queste 50 navi e capite che gli equilibri iniziano ad essere un po' delicati anche da quella parte quindi è un qualcosa che sicuramente ci riserverà delle sorprese mettiamola così torno un attimo sul Baltico però perché la domanda che ti faccio è ma qualora si dovesse arrivare a questo scenario un po' da incubo effettivamente cioè di una chiusura totale di Kaliningrad cioè la chiudono via terra la chiudono via mare quindi è isolata ma la Russia non potrebbe effettivamente considerarlo di fatto come un'aggressione questa cioè poi appunto qual è il limite per cui un'azione così decisa della Nato non dovrebbe essere presa come un attacco diretto nel momento in cui mi isoli un pezzo di terra dove io ho delle appunto come dicevi tu delle degli elementi da un punto di vista già strategico già militare importantissimo cioè non si corre il rischio comunque di innescare lì un escalation che poi arriva al conflitto secondo me e qui ragioniamo proprio per assurdo però se la Russia o un altro paese decidesse di attaccare una Repubblica Baltica qualsiasi una Polonia anche non è detto che gli Stati Uniti facciano valere l'articolo 5 della Nato potrebbero tranquillamente trovare un escamotage se questo non è negli interessi degli Stati Uniti quindi se in quel momento scatenare una guerra non sia nell'interesse degli Stati Uniti quindi potrebbero esserci margini di manovra ma per queste appunto sono le occupazioni lasciamole un po' da parte secondo me la prospettiva su cui dobbiamo ragionare è quella elettorale statunitense perché l'intervista a cui facevi riferimento tu prima di Drucker Carson è chiaramente un tentativo da parte di Putin di tendere la mano agli Stati Uniti per trovare una soluzione politica la destabilizzazione globale e soprattutto visto che il giornalista aveva un chiaro orientamento politico dice se quello che molto plausibilmente sarà il nuovo presidente americano cioè Trump dovesse tenere fede a quelli che sono i suoi impegni sicuramente si andrà a una definizione di rapporti diversi tra i due paesi e in questi rapporti diversi secondo me ci sarà una de-escalation di tutto il continente europeo quindi lungi dal voler prendere le parti di Trump però questo è un dato politico su cui dobbiamo riflettere tutti quanti che i democratici americani che fanno la sponda poi anche ai democratici di casa nostra sono quelli che ci trascinano nella guerra e purtroppo la parte avversa quella reazionaria più retriva e anche ideologicamente più lontana a noi in realtà prevedono degli scenari futuri in cui ci sarà meno sofferenza e problemi per il continente europeo senti da questo punto di vista no appunto l'altra partita che si è aperta è stata no la butade di Trump sul invitare i russi ad attaccare direttamente i paesi europei che non si adeguano no all'obiettivo di spesa del 2% stabilito dalla Nato cosa appunto cosa significa ecco questo cioè è un allontanamento dall'Europa è un lasciare l'Europa a se stessa contemporaneamente aggiungerei il dato molto significativo che mentre siamo sostanzialmente siamo in stagnazione quasi recessione sostanzialmente appunto anche diciamo l'agenda elettorale di Ursula von der Leyen all'europea è esposta l'attenzione dalla transizione ecologica a riarmo sostanzialmente quindi viene un po' puntata all'industria militare come ultima chance insomma per interrompere ostacolare il processo di totale di industrializzazione di tutta l'Europa e quindi c'è anche questa partita qua insomma di rafforzare l'industria delle armi in Europa quindi volevo capire un po' tutto questo come si innesta nelle cose che hai detto fino a ora allora innanzitutto secondo me Trump te l'ha detto e quindi questo è il primo dato politico poi magari corregge il tiro dice che era uno scherzo però ha mandato il messaggio e quindi a buon intenditor poche parole ma cosa voleva dire con quel messaggio che gli Stati Uniti continuano ad avere un ruolo egemone all'interno di tutte le dinamiche Nato e che pretendono una sorta di pagamento di pizzo come fanno i mafiosi da parte di tutti gli Stati della Nato quindi dei vari vassalli che ci stanno perché la questione principale è in questo momento di guerra l'industria dell'apparato militare industriale americano è trenata riesce a trenare tutta l'economia e quindi nello scenario che paventa Trump quindi quello di un affievolimento dello scontro in Ucraina e forse anche nelle Balsi quindi una stabilizzazione della situazione in Europa ci sarebbe una contrazione delle commesse militari e quindi un rallentamento generale dell'economia e questo sicuramente Trump non lo vuole per gli Stati Uniti quindi come contrastare questa contrazione cercando di spingere tutti i paesi europei a pagare questo pizzo del 2% del proprio PIL in spese militari perché qui è il problema chiave perché come ce la raccontano in Italia questa spesa del 2% sembra che noi investiamo nella nostra difesa no non è così noi investiamo nell'apparato militare industriale della Nato e questo è gemolizzato dagli Stati Uniti perché la Nato prevede una serie di standard una serie di utilizzi di determinati strumenti l'utilizzo in concessione di determinati brevetti tutte cose standardizzate e che noi dobbiamo comprare prevalentemente da aziende statunitensi quindi è vero che in questo turbine di spesa la Leonardo la Beretta e quant'altro si prendono qualche spicciolo passatemi il termine perché comunque parliamo di miliardi però il grosso va negli Stati Uniti e va a sostenere l'apparato militare industriale statunitense e quindi tutta l'economia statunitense quindi la vera partita è qui è sul ruolo egemonico all'interno dell'incidente collettivo della Nato che vuole continuare a sostenere la propria industria a scapito dell'industria degli altri paesi bravissimo hai fatto ottimo questa riflessione però c'ho un paio di dubbi nel senso che appunto come abbiamo anche interpretato noi anche Ben Norton ha fatto un bellissimo video ma Alessandro ha fatto un ottimo video l'intervista a Carson e in generale la strategia Trumpiana appunto è quella di in qualche modo congelare il conflitto in Russia che appunto tendenzialmente nella strategia Bideniana assorbiva più energia russa che non americana mentre nello svolgersi poi del conflitto assorbe più energia americana cioè mette più in difficoltà per aprire altri fronti gli Stati Uniti che non la Russia o comunque per essere pronta diciamo a intervenire al fianco ad esempio della Cina tutto questo per concentrarsi sulla Cina in questa concentrazione contro la Cina però mi sembra evidente palese che anche tutti gli sforzi di reindustrializzazione possibili immaginabili neoprotezionismo statunitense eccetera non sono sufficienti cioè gli Stati Uniti non hanno puntano al protezionismo puntano al make America great again ma l'America great again quanto gli pare sul fronte della produzione industriale per sostenere un conflitto in mille forme diverse che può prendere quasi sicuramente non diretto però interposta persona però su scenari molto ampi e impegnativi non gliela fa non gliela fa quindi la cosa che a me non torna è sì quello che hai detto te è assolutamente centrale tra l'altro sottolineerei anche alcune la dialettica tra le reazioni in Europa la Francia abbiamo visto ha fatto un discorso molto più perentore sul fatto si raggiunge il 2% ma di armi nostre è anche vero che la Francia ha sempre avuto un po' più di cazzimma nel difendere l'industria nazionale rispetto a altri che sono proprio protettorati veri e propri non hanno proprio margini di manovra però appunto se l'obiettivo a lungo termine è congelare la Russia perché assorbe più energie nostre che loro e prepararsi dal punto di vista della produzione industriale a reggere il conflitto con la Cina gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa hanno bisogno dell'industria che l'Europa sviluppi una sua industria militare non basta quello che riescano a fare loro no? cioè non so se mi segui su questa cosa qua sto pensando a voce alta sostanzialmente che non è una cosa a cui ho riflettuto tanto però mi sembra proprio macro evidente che per reggere la competizione con la Cina e con la Russia come alleato che quindi abbiamo visto tutti gli sforzi che ha fatto ci vuole gli Stati Uniti più l'Europa tutte e due si devono reindustrializzare concentrandosi sull'industria bellica come la vedi sta cosa qua? cioè da questo punto di vista qua la strategia più a breve termine no? di dire aumentate il budget però all'interno diciamo della dipendenza economica produttiva nel comparto militare dell'Europa agli Stati Uniti comunque impedisce al blocco occidentale di riarmarsi cioè di avere tessuto produttivo tale da regge il conflitto con la Cina quindi da un certo punto di vista anche da questo punto di vista c'è da preferire tra virgolette Trump perché suicida mi sembra no? l'opzione no? aumentate il budget ma si fa tutto noi perché quel tutto noi non basta mi sembra abbastanza macro evidente sì allora secondo me la politica industriale di Trump è un po' voler chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati perché non c'è più secondo me opportunità di invertire una tendenza in atto alla deindustrializzazione dell'occidente collettivo e quantomeno che non regge più la competizione la velocità di sviluppo e di crescita della Cina su tutti i settori anche su quello militare quindi secondo me c'è scarsa lucidità su questa cosa ma detto ciò secondo me c'è anche un altro problema che probabilmente gli Stati Uniti allo scontro militare non ci vogliono andare neanche con la Cina vogliono creare soltanto una contrapposizione tra blocchi e in questa contrapposizione tra blocchi loro avrebbero quello occidentale e la nuova cortina di ferro passerebbe prevalentemente sul Pacifico e per questo poi ci sarà lo sviluppo della Nato del Pacifico e quant'altro cose di cui probabilmente sarebbe anche utile fare un approfondimento in futuro però il discorso è che il progetto di Trump secondo me prevede un ridimensionamento dell'apparato militare industriale comunque europeo a favore anche di quello statunitense perché l'Europa è vista soltanto come mercato di sbocco delle merci statunitense perché nel disegno protezionistico di Trump e quindi di chiusura lui punta ad avere dei giardini di casa uno di questi è l'Unione Europea e l'altro è evidente lo sta dicendo in tutti i modi è l'America Latina quindi ci sarà sostanzialmente una stessa politica di dominio imperiale sull'Europa e sull'America Latina l'unica vera differenza sarà che da noi sarà un po' più soft quindi ci lasceranno un po' di margine d'autonomia industriale ci lasceranno dei piccolissimi margini decisionali in campo economico ci lasceranno delle funzioni produttive magari ci faranno fare qualche piccola componente di qualche arma o ci lasceranno la specializzazione in alcuni prodotti interessanti per il commercio americano ma noi saremo mercato di sbocco e soprattutto gli Stati Uniti vogliono questo sì secondo me pianificare le nostre politiche industriali lo possono fare tramite le levi della finanza le levi militari e anche attraverso le leve politiche vere e proprie quindi questo secondo me è lo scenario in cui sempre stiamo ad arrivare sotto una ipotetica presidenza Trump e guardate che sarà davvero dura sarà dura però da un certo punto di vista anche un quadro abbastanza positivo anche per altre due ragioni dico uno appunto abbiamo citato forse prima che si iniziasse la live con Gabriele dicevamo le affermazioni di Lula ora sulla questione israeliana comunque diciamo Lula è un attore che non mi sembra sia disposto in qualche modo a a cedere diciamo i suoi obiettivi di sviluppo interno di un gigante comunque che ha una potenza regionale tra l'altro forse anche dal punto di vista militare non è così sguardo non lo so questo non lo so non ho idea no vabbè comunque insomma un gigante quindi diciamo la partita sul Sud America è complicata ecco nel senso poi c'è tutta anche la partita del Messico che andrebbe capito tra l'altro Messico altro paese che va alle elezioni andrebbe capito anche lì secondo me molto significativa da questo punto di vista qui capire perché diciamo il Messico è il vero retroterra produttivo possibile degli Stati Uniti dove tra l'altro stanno andando a investire anche i cinesi a manetta per approfittare no dei finanziamenti dell'IRA quindi insomma partita super importante che mi sembra molto significativa è che in questo processo diciamo cioè il cambio completo di paradigma statunitense da super imperialismo finanziario a potenza manifatturiera esportatrice quindi un cambio totale si ritorna agli anni 50 sostanzialmente però ricordiamo che i piccoli passi piccoli ma significativi passi che abbiamo già visto intraprendere soprattutto con la Bidenomics con l'IRA con il chipset eccetera cioè hanno risvegliato una cazzimma da parte di lotta di classe all'interno degli Stati Uniti mica da poco ricordiamo i scioperi dell'automotive qui noi abbiamo cercato un po' di parlarne forse anche meno di quello che era si meritavano però sono state una roba grossa massiccia cioè importante quindi diciamo abbiamo la parte più retriva no degli Stati Uniti quella proprio del padroncino o padrone no della ferriera che però adotta un percorso che in qualche modo ridà uno strumento potentissimo no di rivendicazione di organizzazione democratica e tutto a quelli che odiano di più odiano cioè penso che odino più di tutti insomma i loro lavoratori organizzati no più ancora dei cinesi dei russi e anche dei palestinesi ecco quindi mi sembra ci sia mi sembra con piano abbastanza suicida e abbastanza se fosse davvero in questi termini qui davvero c'è da sostenere Trump perché cioè si si mettano in un imbuto dove tutte le forze un po' più progressive in realtà ne guadagnano a parte l'Europa che mi sembra un po' il punto morto della faccenda sì anche l'America Latina in realtà non è che se la passerà tanto bene in quello scenario però io farei una riflessione su quello che è l'assetto sociale e politico interno degli Stati Uniti quindi del cuore dell'impero in cui le iniziative vertenziali quindi le proteste dei lavoratori a volte hanno tratti più sanguigni più feroci più carichi di quelli che ci sono in Europa ma poi si concludono nell'ottenimento delle rivendicazioni e non hanno uno sbocco politico perché quello che manca realmente negli Stati Uniti è la forma di rappresentanza o di classe o anche politica in un altro genere in questo momento i repubblicani hanno intercettato un po' di malcontento popolare e con una loro corrente interna quella appunto che fa più riferimento a Trump gli hanno dato uno sbocco politico però per il resto praticamente non esiste quindi magari abbiamo organizzazioni di stampo socialista che riescono a portare avanti battaglie vertenziali ma poi si perdono nel tutto e le otterranno delle vittorie quindi il raggiungimento delle rivendicazioni ci sarà ma il risultato politico quindi la crescita successiva non ci sarà ma è più interessante dal nostro punto di vista quindi dei vassalli dell'impero capire come verranno dati come verranno soddisfatte le richieste di queste lotte quindi con una appropriazione di ricchezza da parte di qualcun altro perché la coperta a quel punto in questo ambiente chiuso di questa nuova forma di protezionismo sarà sempre quella quindi se la tiri da una parte vai a scoprire dall'altra e quindi se devi coprire i fabbisogni interni statunitensi perché ci sono state le mobilitazioni che ti hanno portato a ciò inevitabilmente secondo me andrai a scoprire dall'altra sponda dell'Atlantico quindi quello che verrà dato a loro sarà tolto agli europei lungi da me voler fare un discorso di contrapposizione tra poveri una guerra tra poveri per dire le lotte degli americani rubano a noi no no invece le lotte sono significative se poi diventano di tutti perché lo vediamo in questo momento anche in Europa con le proteste degli agricoltori che non sono state declinate secondo me nella chiave giusta che dovrà essere quindi una battaglia unitaria degli agricoltori europei contro la PAC ma sono state declinate come vertenze nazionali dei singoli agricoltori che andavano a chiedere qualche sconto qualche favore da parte dei governi nazionali ecco in questo modo ci saranno le rivendicazioni dei più forti quindi dei paesi più forti in questo caso la Francia e la Germania che andanno a danno degli agricoltori degli altri paesi perché pure lì la coperta è corta quindi secondo me le lotte di classe le lotte vertenziali devono essere fatte in maniera unitaria trasversale soprattutto internazionalista no no è chiaro è chiaro ottimo Gabriele non so se volevi un'ultima domanda se no vai a chiusura fai te no guarda giusto così ma una suggestione più che altro ti chiedo a questo punto Alberto parlavi insomma di un aumento della conflittualità parlavate di un aumento della conflittualità sociale e sindacale negli Stati Uniti a seguito appunto della coperta che è corta ma in tutto questo dobbiamo aspettarci in qualche modo anche che arrivino colpi aumentando la confusione interna agli Stati Uniti e quindi aumentando anche la conflittualità probabilmente all'interno del famoso cortile di casa quindi episodi come quello che c'è stato in Venezuela con Guaido e via dicendo dobbiamo aspettarci tentativi da parte cinese o russa tanto per fare due nomi ma insomma principalmente loro di penetrare in questo giardino di casa attraverso la diplomazia cioè ad esempio è possibile che Lula trovandosi in difficoltà con una nuova amministrazione Trump riceva a quel punto un sostegno ancora più marcato dalla Cina io penso che il senso dei BRICS sia anche quello se dovesse venire meno questo senso di solidarietà il progetto politico ne risentirebbe fortemente non credo che la Russia e la Cina vogliono qualcosa del genere Perfetto sei stato sintetico e chiarissimo io direi che andiamo in chiusura e allora ringrazio Alberto Fazzolo per questa bella chiacchierata tornerà con noi ciclicamente per aggiornarci sulla situazione internazionale ringrazio tutti gli Ottoliners e ci vediamo alla prossima un saluto a tutti ciao 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 Grazie a tutti